bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo delle notizie veramente incredibili per quello che sta succedendo negli ultimi giorni di fortnite in questa season vedremo delle immagini le prime immagini della season 4 ma parleremo anche della nuova cap che hanno deciso di fare con due giorni praticamente di preavviso perché il 23 agosto si farà una cap che regalerà 1200 hardware per giocare a forte vi spiego un po tutto ragazzi prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed ecco direttamente nella sezione la free fortnite cup una cap che sa di delusione amarezza ma anche la voglia di epic games di riuscire a vincere questa enorme battaglia contro il colosso apple dopo tutte le vicissitudini che stanno ovviamente accadendo sapete benissimo che dal 27 agosto giorno in cui arriverà la nuova season tutti i giocatori che utilizzano i dispositivi ios e molto probabilmente anche i mac non potranno più giocare a fortnite questo è veramente un durissimo colpo anche morale per noi videogiocatori che magari abbiamo piacere a giocare con i nostri amici che utilizzano appunto questi dispositivi purtroppo il cross non sarà più possibile e neanche proprio le partite la free fortnite cup però sembra essere uno spiraglio di luce per quelli che non hanno più la possibilità appunto di avere nell'immediato un dispositivo innanzitutto voglio leggervi delle notizie allora domenica 23 agosto gareggia nella coppa free fortnite per una chance di vincere il nuovo costume don torsolone e altri premi don torsolone ragazzi lo state vedendo è ovviamente un cliché che sta un po ad indicare come apple voglia avere il dominio di tutto quello che non è cioè di tutto quello che è suo e non ne vuole sapere di ascoltare le altre opinioni nella free fortnite cup set al sei rimasto tagliato fuori su ios dopo il lancio del capitolo 2 season 4 ricorda che la festa continua su ps4 xbox nintendo switch pc mac quindi ragazzi per adesso il mac è dentro geforce now e attraverso l'app di epigames.com e il samsung galaxy store unisciti alla lotta contro app store sui social con free fortnite dettagli del torneo apri la scheda competi nel gioco per controllare l'inizio dell'evento nella tua regione durante il tempo assegnato non dovrai far altro che le sono a selezionare la playlist free fortnite per gettarti nella mischia un punto ogni tre minuti sulla isola dbr ogni eliminazione un punto vittoria reale 10 punti per ciascuna vittoria quindi comunque i punti sono molto particolari rispetto a quanto siamo abituati a vedere i primi 20.000 giocatori riceveranno questo cappello direttamente a casa un piccolo omaggio fisico perché vi verrà realmente spedito un ricordo per il futuro di quello che sta succedendo e di quello che è successo ma i premi sugosi arrivano proprio qua ragazzi inoltre regaleremo 1200 hardware di gioco telefoni console pc anche se non puoi più giocare su ios ti restano altri fantastici modi per giocare a fortnite diventa uno dei migliori 1200 mangia mele al mondo per vincere uno di questi premi un alienware gaming laptop un samsung galaxy tab s7 un oneplus 8 90 fps sul telefono una ps4 xbox one nintendo switch ho detto uno ma in realtà potrebbero essere ovviamente molti di più perché vi ho detto sono 1200 io vi invito ragazzi comunque a dare un'occhiata anche alla pagina ufficiale delle news di epigames in modo da poter capire tutto quello che c'è dietro come si fa serve il 2 fa dovete essere a posto controllate ragazzi mi raccomando e buona fortuna a tutti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva sbam come un ladro nella notte il primo teaser con ben sei giorni di anticipo infatti è uscito ieri pomeriggio direttamente in un tweet della pagina ufficiale di fortnite che twitta un martello un lampo e un arcobaleno il martello potrebbe essere quello di thor il lampo potrebbe essere sempre inerente a thor dio del tuono tutta la roba lì il il pezzo di arcobaleno potrebbe essere appunto il ponte arcobaleno che abbiamo già visto è collegare tutto il regno dei supereroi e degli avengers con la terra la cosa che ci interessa vedere innanzitutto è ovviamente l'immagine che vi faccio vedere in maniera un pochettino più nitida in questo piccolissimo teaser che loro pubblicano è nella loro pagina e come vedete è molto probabile che ogni giorno verrà pubblicato fino al 27 agosto qualcosa di diverso e per qualcosa di diverso io intendo lo sfondo sulla scritta fortnite come avrete notato ragazzi tempesta è la donna che c'è sullo sfondo quindi molto probabilmente se non certamente farà parte della nuova season e quasi sicuramente del pass battaglia quindi ogni giorno un nuovo teaser penso che scopriremo così i nuovi supereroi anche perché oramai è chiaro che la season sarà sostanzialmente basata sul tema marvel e qua io voglio farvi una domanda e sono veramente curioso delle vostre risposte perdete dieci secondi ma rispondetemi cosa ne pensate di come stanno prendendo le cose su fortnite vi piace il discorso che sia una season dedicata all'universo marvel avreste preferito che la storyline continuasse in una maniera un pochettino più evidente nella mappa magari saranno collegate le cose magari non lo saranno scrivetemelo qua sotto perché ci tengo proprio tanto a sapere la vostra opinione tra l'altro un'altra modifica arriva direttamente dal dona il dona quando mi fa le modifiche io sono lì che le aspetto il donald master donato mostarda ragazzi che cambia la copertina della sua pagina principale di twitter con questo banner end of the day a fine del giorno donald master writing guard rachel rosenberg color art e v6 scorpiting lettering eccolo qua ragazzi lo vediamo direttamente ma che c'è una faccia al donato che ti mette allegria quando lo guardi sembra un sofficino sembra porca miseria la cosa interessante ragazzi però è anche la location perché se andiamo a guardare il donato mi mette come location close to zero e non è la prima volta che va a parlare dello zero point del punto zero di tutto quello quindi io sono molto fiducioso che ci possa essere un collegamento con tutta la mega storyline che conosciamo di fortnite dal capitolo precedente portato fino anche a questo capitolo staremo ovviamente a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché visto che ci ha appreso il leakers di cui vi parlavo ieri con il comic book oggi arrivano delle nuove informazioni dedicate alla season 4 ok now that my source was right here some more info ok visto che la mia fonte ha avuto ragione vi dico altre cose 1 ci sarà un punto di riferimento dedicato a thor di marvel quindi una location solo per thor potrebbe essere light tower quella di cui stavamo parlando non lo so 2 ci sarà la skin di wolverine e io vi dico di già la skin di wolverine sarà una skin simile alla banana ragazzi quindi si sarà una banana wolverine dopo vi faccio vi faccio vedere un attimo no non ce l'ho qua dopo ve la faccio vedere la banana wolverine di un tizio 3 è scritto sotto appunto wolverine banana lol quello che vi ho appena detto 4 comic books page will be found and collected in the map quindi le pagine del comic book che vi ho fatto vedere anche ieri che appariranno nella lobby si troveranno in giro per la mappa le potremmo collezionare e mettere insomma che in modo che formino appunto tutto il libro da leggere qua ragazzi eccolo il la wolverine pilli ora io non so se sia proprio così però diciamo che l'idea è quello e infatti vi facevo anche vedere l'immagine di tempesta la ragazza che c'è sullo sfondo della scritta fortnite che abbiamo visto prima insomma ragazzi oramai ci siamo live sale io sono molto fiducioso perché dai sono molto fiducioso purtroppo ip games non si sta passando un bellissimo momento ma noi incrociamo le dita io vi ringrazio per aver guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di premere il tasto lasciate un bel like e io sono proprio adesso in live su twitch ciao